Io ho fatto vedere che questa skin era completamente gratis a 0 WPAC e vi avrei spiegato soltanto a 100 like come sbloccarla Beh ce l'abbiamo fatta e ora vi spiegherò come sbloccarla in modo 100% gratuito Ma io ho 5 secondi per andare a lasciare un bellissimo like se vuoi ottenere anche tu questa skin Quindi 5, 4, 3, 2, 1 e vai a lasciare un bellissimo like in questo momento se vuoi ricevere anche tu questa skin gratis Beh questa skin fa parte di un evento di lama appunto ragazzi avremo un sito noi dovremmo accedere con il nostro account E completare le missioni che poi ci ritroveremo qui dentro Dobbiamo completare tutte queste missioni e dopo di che saranno molto facili non vi preoccupate Dopo di che vi arriverà subito la skin nel vostro armadietto Inoltre ragazzi oggi alle 21.4 andrò a fare un regalo ad uno di voi che mi commenta sotto a questo video con il codice codinggamerch.32 e il suo ID Quindi mi raccomando inseriscilo Ciao ragazzi Bye